Centro urbano a 20-25 km a ovest di Bari e a 9 km dal mare Adriatico. È noto per la presenza di impianti di floricoltura che sono al centro di un notevole mercato all'ingrosso. L'attività agricola è simile a quella degli altri abitati vicini, ma come prodotto identitario spicca la varietà di fioroni Domenico Tauro. Da citare anche la produzione di ceramiche, mentre il prodotto tipico della panetteria locale è un pan focaccia di forma allungata e con pomodori dal nome di pizzarello. Simbolo della città è la Torre Maggiore, che si erge nel centro storico con il suo orologio dal quadrante di quasi tre metri e mezzo di diametro. Di particolari interessi artisti quel portale medievale di Anseramo da Trani, un tempo parte dell'antica cattedrale poi distrutta e oggi collocato sul fianco della chiesa della Madonna del Rosario. Molto sentita è, ad agosto, la festa maggiore, durante la quale un carro alto 22 metri, spinto da circa 60 uomini, porta in processione l'icona della Madonna di Soveretu. Grazie a tutti. Grazie a tutti.